Francesco Barone di Help Senza Confini ha dovuto interrompere la sua sessantesima missione in Africa a causa di una situazione sempre più insostenibile nella Repubblica Democratica del Congo dove da anni lui e la sua associazione stanno portando avanti progetti importanti di distribuzione alimenti e scolarizzazione. Attualmente sono in corso scontri durissimi tra l'esercito regolare e il gruppo ribelle M23 responsabile di massacri quotidiani nei confronti della popolazione in erbe in particolare nella periferia di Goma. Io mi trovavo lì per la sessantesima missione, mi trovavo a consegnare cibo e medicine nei campi profughi e ho assistito a queste violenze. Nel Congo ci sono massacri quotidiani e la causa è sempre la stessa, la ricchezza, l'economia coltan, cobalto, diamanti, oro. Ci sono milioni di persone che vivono in condizioni di estrema vulnerabilità proprio in un periodo in cui le guerre sono molto frequenti vorrei dire a tal fine che le guerre sono tutte sbagliate, le guerre sono la distruzione di case, di ospedali, di strade, di culture, spezzano le vite ma nel contempo mi sento di dover dire che per fronteggiare la guerra c'è bisogno di un'azione forte a favore della pace perché la pace non solo si predica, la pace si pratica. Noi stiamo operando soprattutto nella consegna di alimenti, nella consegna di medicine, di vestiti ma stiamo portando avanti dei progetti importanti per quanto concerne la scolarizzazione dei bambini che non avrebbero avuto alcuna possibilità di studiare. Nel quartiere Mugunga, la periferia di Goma, noi abbiamo costruito un centro importantissimo che si chiama Quetu all'interno del quale ci sono queste scuole che ospitano attualmente circa mille bambini. Che cosa noi possiamo fare noi qui dall'Occidente per cercare di aiutare quelle popolazioni? Si può fare molto, la prima cosa è quella di sensibilizzare, voi lo state già facendo e vi ringrazio per questo. La seconda cosa è quella di agire concretamente affinché anche gli organi internazionali, i governi internazionali si attivino concretamente per porre fine a questo dramma.